Il PD è presente con i suoi esponenti laddove movimenti, organizzazioni, comitati, sindacati, cose eccetera hanno delle piattaforme che siano compatibili con eccetera. Certamente noi non parteciperemmo a manifestazioni contro il governo Monti, non è questo. Però se io fossi ministro dell'industria del lavoro vorrei chiamare per esempio FIED e capire ma è vero quel che si dice di Pomigliano? Non lo so se è vero, ma è vero che nelle riassunzioni ci sono fatti di discriminazione verso gli appartenenti a un sindacato? Perché questo non andrebbe bene, perché i diritti basici dei cittadini e dei lavoratori non sono solo cose dei sindacati, no? Sono cose basiche. Io se in coda tutto quanto si vuole discutere di manutenzione, l'articolo 18 ho sempre detto in coda tutto quanto perché non è questo il problema, si discuta pure ma nessuno metterà in discussione, voglio credere, una clausola antidiscriminazione che c'è in tutta Europa. c'è in tutta Europa una clausola antidiscriminatoria.